No, non abbiamo parlato di cifre, abbiamo parlato di stabilità, perché lui mi ha chiesto se questo governo è stabile, appunto perché penso che sia un valore per i nostri interlocutori internazionali, nel momento in cui vogliono investire in Italia mi auguro che ne siano consapevoli tutti i protagonisti politici. Contestualmente abbiamo parlato del progetto che il Ministero dell'Agricoltura sta elaborando con Google, che è ovviamente in itinere, non posso ancora parlarne per serietà nei rapporti, però è una grande operazione di promozione dell'agroalimentare italiano e quindi di conoscenza, perché penso che bisogna investire molto sulla conoscenza, però non abbiamo approfondito in questa sede i numeri in termini di investimenti che ci saranno in Italia.